Se per la patto dell'agro il sindaco Maglio Torquato non esclude il rilancio, è su AgroInvest che le cose si complicano. La maggioranza di governo di Nocere Inferiore ha dato un mandato chiaro e preciso al suo primo cittadino, verificare le condizioni della società di trasformazione urbana e capire se continuare a tenerla in vita. Le premesse non sono buone, a partire dal dialogo con l'amministratore unico Felice Iagnello. Abbiamo fatto le necessarie valutazioni rispetto a questi strumenti, pensiamo all'agroinvest in particolare, abbia ampiamente esaurito la sua funzione, per cui vediamo adesso come questa cosa va gestita, ascoltiamo anche cosa ci dirà l'amministratore unico Felice Iagnello, che non sento da un po', e poi vediamo che cosa si dovrà fare, insomma è inutile mantenere in piedi le cose che non funzionano. In realtà la Regione una traccia l'ha già data, perché poi ha spostato il suo asse di attenzione anche le promesse di impegno finanziario principalmente, ma non soltanto, ma principalmente sulla patto territoriale. Bisognerà vedere per agroinvest rispetto agli investimenti residui sulla zona di Sarno che cosa vorrà fare, come lo vorrà fare. Parlare di unificazione degli strumenti è un'affermazione di principio che poi deve misurarsi con la fattibilità pratica, con le debitorie che ognuno dei due si porta dietro, in particolare l'agroinvest più che la patto, sulla sostenibilità giuridica, poi ci sono varie forme per parlare di unificazione. Unificazione del personale, piuttosto che degli obiettivi, piuttosto che avvio ad una fase liquidativa di uno dei due, come per esempio avevo sostenuto nell'estate scorsa rispetto all'agroinvest, mentre per quanto riguarda la patto avevamo deliberato come Consiglio Comunale due anni fa la cessione delle quote, e poi ovviamente si tiene conto delle novità che si sviluppano, che non sono certo gli incarichi, come qualche male informato dice, perché quelli peraltro sono anche in totale riduzione di costi, di numeri, quindi non diciamo sciocchezze inutili, quanto rispetto alle funzioni. Se ieri la patto sembrava in dismissione e oggi la Regione ci dice, per ora ci dice, poi speriamo che concorra operativamente a poterlo fare in termini di soldi, altrimenti restano parole a vuoto, di volerci investire su, è chiaro che i comuni che vogliono appuntare ad un raccordo tra di loro per trovare un'agenzia di sviluppo del territorio per attività infrastrutturali, cioè che non riguardano un solo comune, provano a riscommetterci, ma se ci rendiamo conto che questo non accade e che si tratta di parole al vento, allora saremo conseguenti. Molte volte le decisioni che non riguardano solo il comune di Nocele Inferiore devono misurarsi con le attività di raccordo con gli altri comuni. Grazie a tutti.